Ciao a tutti ragazzi, io sono Fredrix e benvenuti all'interno di un nuovo video della Vanilla. Oggi ragazzi dobbiamo finire di terraformare tutta questa zona. Allora, off camera, sono stato a giocare, in realtà dallo scorso video, praticamente per me, sono passati credo 35 minuti. E ho fatto questo, ho avuto solo un piccolo problemino, ma che stavo costruendo, cioè prima, una metà di minuti fa. Ovvero, qua ho dovuto spostare, per il semplice fatto che ho spostato tutta quella zona, ma sarebbe stato un aborto. Non so se l'ho registrato da quella parte, comunque ho dovuto spostare tutta questa zona di uno. Non so se magari ve l'ho detto nello scorso video, la mia memoria al momento sta fusa, perché sera, sto registrando da un bel po', ho registrato prima un'oretta, poi mezz'ora off camera, ho giocato, quindi potete capire come sto messo. Se dico qualcosa che non ha senso, è per questo. Allora, dobbiamo traformare tutta questa zona, come vi ho detto, però arrivati tipo a una certa, che ancora devo capire, dobbiamo scendere di due verso il basso, perché altrimenti non mi trovo con la scala che ho fatto qui, capito? Ah, e tutta questa zona deve essere buttata giù. Io direi di iniziare almeno arrivando con le mura, fino a qua tipo, sì. Fino a qua, qua ho chiuso, qua ancora non ho fatto niente. Uff, vabbè, un'alza qua in realtà è semplice, già l'ho fatto. Basta mettere prima delle torci dove sono i muretti, dove si possono mettere, che in alcuni punti no. Qua, qua, insomma, avete capito? Dai. Tipo, vedi, qua non lo posso mettere? Manco qua, manco qua. Adesso, i muretti saranno tutti bui. No, questo no, questo no, questo no, questo no, questo sì. Ok, ora, sopra tutte le torce, ci piazziamo dei blocchi. Fanno sì che l'ultimo muretto diventi una colonna. A questo servono, semplicemente. Perciò parto dal blocco sopra, quando devo mettere le torce, non da quello sotto. Perché sopra mi devo trovare con un blocco così. E ora sarà a terra, poi se lo sostituiremo sarà di qualche altra cosa. Ce la faccio? Perfetto. Usiamo vari blocchi alla volta. Ecco, per esempio, ora posso usare i blocchi. Va a alzare di tre. Fai uno, due, tre. Dove sono tutti quanti i blocchi? Due, tre. E così via. Ho preso anche della stonna alla fornacea. Diciamo tre. Cioè, era di più. Già ne ho sprecato un botto. Facciamo così. Dovete alzare tutto dove ci sono i mattoni. Cioè, dovete. Pare che sto fa un tutorial, quando in realtà non credo che nessuno di voi si mette a fare delle mura così. Vabbè. E poi ci andremo a mettere le mura così. Vedete, ne mettiamo due. Poi qua la scaletta e la slab. Così. Tre. Uno, due, tre. Non sapevo fare altri. Ho dovuto un po' svuotare la fornace dai mattoni del Nether. Perché era piena, comunque. E secondo me a quella fornace là, automatica, ci dovevo fare, credo, un'altra cesta ci dovevo mettere. Secondo me sì. Perché lo spazio scarseggia. Facciamo così, così e così. Tutti quanti gli spazi. Uno, due. Scaletta, slab. Ora. Questi li trasformerei in wall. Tutti quanti. Sto per suicidarmi. Ok. Comunque devo vedere se ho altri stone brick magari qua sotto. Perché può essere. E tipo, vedi. Ce lo dà per tutto i stone brick. Volete vedere che li tengo per qua? Eh, infatti. Ah, e quanti qua. Poi ne faccio sempre altri, capì? Non prendo mai gli stessi. E quello è il fatto. Perciò si accumulano. Questi che sono? Ah, warped. Quelli del nether. Ora abbiamo un bel po' di roba. Credo che ci basta. Per fare sta curva. Poi qua devo riempire tutta di terra. Questo va buttato giù. Dovevo fare la scaletta che si collega lì. E ci siamo. Sta zona credo sia tutta terraformata. Tutta quanta. Non mi resta che chiudere le mura. Basta. Vedi, là già ho chiuso. Sì, devo solo chiudere queste mura poi. Ok. Che siccome sono quelle esterne. Sono leggermente diverse da queste. Ma di poco cambia. Sono un po' più impegnative. Perché il bordo esce fuori di uno sopra. Vedete com'è lì? Non vi posso zoomare ma insomma avete capito. Non c'ho l'optifine. Non so per quale motivo non va. Spero che col computer nuovo vada. Anche perché è il minimo. Dopo tutti i soldi che spendo. Questa come va? Mo mi sa tutte così. E mo tutte così. E poi come le metto sotto le devo mettere sopra. Queste scale. E poi fa come ti pare. Stasera manca il wifi mi va tra l'altro. Che bello. Ovviamente in senso ironico. Perciò sto a registrare Minecraft stasera. Facciamo così. Non sapevo che fare per non perdere tempo in zoom. Facciamo così, così, così. TikTok non posso farli. Le live non posso farle. E ho detto facciamo Minecraft. Tra l'altro sono le undici e mezzo. Chi è alle undici e mezzo si mette a registrare Minecraft? Solo io mi sa. Probabilmente registrerò fino a credo mezzanotte e dieci. Mezzanotte e un quarto. Facciamo così, così, così. Ma se metto prima tipo tutti i wall. Almeno non devo cambiare sempre cosa nell'inventario. Sempre slot. Facciamo così. Così. Uno, due e tre. Perfetto. Ora devo continuare qua veramente? Sì. Qua mi sa che non l'ho proprio fatto. No. Tengo solo tipo le basi. Che in realtà già è qualcosa. Io di solito faccio così a due e due. Che faccio prima. Finito? E già li ho finiti questi blocchi. E insomma negrano tanti eh. Allora. È notte. Piove. La cosa più sensata da fare secondo me è dormire. Almeno si leva anche la pioggia. C'è uno stack qua. Ah eh. Qua c'è da un bel po'. Non so perché non li ho presi. Beh. Forse non li ho visti. Devo. Dove è che stavo lavorando? Qua. Porco due. Trovo una cavata di quelle esagerate. Fino a dove? Fino a qui. Devo arrivare fino a là. Però a una certo ho detto devo scende. Facciamoci tutte queste scalette va. Non so più dove ho da premere i tasti laterali. Di solito premo sempre quelli avanti e dietro. Premere questi laterali è un po' complicato per me. Facciamo così. Perfetto. Vabbè per adesso lo facciamo fino a quell'altezza. Poi si vede dopo. Questi due li voglio fino a quell'altezza. Perfetto. Così. Secondo me qua ci conviene scendere. Cioè questo lo faremo di uno più basso e l'altro di uno più basso ancora. E in teoria ci siamo. Quindi se quello abbiamo fatto arrivare in teoria questo qua arriva. Ok. E mi sa che ci troviamo poi. Perché questo arriva qua. Questo arriva qua. Leviamo un attimo questi blocchi. Un momento. Non ci servono. Ok. Qua già l'ho fatto. E questi poi arrivano qui. Ok. Vediamo. Esatto. La si scenderà. Faremo una scala. Qua ci alziamo credo tutti gradualmente. Magari di due alla volta. Dunque mi sono. Vedete mi sono imparato a saltare e piazzare. Guarda. Che è una cosa molto utile. Quando hai tipo l'acqua. Perché. Se tipo stai cadendo da un dirupo. Se sai fare questo. Ti salvi la vita praticamente. Perché ti metti l'acqua e non muori. Il che volente è una skill che possiamo anche provare ora eh. Non l'ho mai provata come skill. Però in teoria sarebbe la stessa cosa di quello che sto facendo ora. Quindi se io prendo un secchio. Che tra l'altro si secchi. Io non so ogni volta che fine fanno. Prendo un secchio. Lo prendo da qua. Mettando là la fonte d'acqua infinita. Provo a fare. Questo. Magari non da troppo in alto. Che dite? La prima volta che lo faccio. Magari da qua che c'ho Federfalling 4. Comunque non dovrei morire. Se non l'avevo. Stavo normale. Secondo me. Un bel po' di danno lo subivo. Ma così non ci dovrebbe essere. Prova ragazzi. Prova. Ce l'ho fatta. Primo tentativo. E vede la stessa cosa più o meno. Questo vi può salvare la vita in alcuni casi. Magari. Se state cadendo da un dirupo. Ora. Mi serve. Altro. Altra stone. Mi serve. Che qua dovrei avere. Ma secondo me. Devo mettere qui. Un altro po' di stone. Perché qua. C'è solo sandstone. Praticamente. Cioè. Alcuni si. Alcuni no. Ogni tanto funzionano queste cose. Ogni tanto no. Guarda. Lo dividiamo. Ti vediamo un po' anche a te. Stessa cosa tu. Un po' anche a lui. Glielo puoi dare. Ma anche di più. Di poi a lui. Tu sei vuota. Guarda. Ne lascio un po'. Facciamo lavorare un po' tutte le fornaci. Che dite? Qua ci mettevo un po' di. Un po' di cobblestone. Undici pezzi in più. Sempre comodi fan. Questi. Tutti stone bricks. Praticamente. Nel mio mondo. È fatto tutto di stone brick. Se lo vedete. E magari. Nelle mura. Qualcosa di legno. Ce la potevo pure mettere. Ma vabbè. Ormai. L'abbiamo fatta così. E le continuo così. Ci devo pensare prima. Ora mi servono tante torce. Che fortuna ho. Perché. Le devo piazzare. Eh. Tocca. Io ho fatto sta cosa. Che la notte. Voglio tutto luminoso. E lo devo rispettare. Tra l'altro. Devo ancora chiudere qua. Perché. Eh. Ho letto un commento. Di un video. Mi sa. Di 5-6 episodi fa. Che diceva. Fredrix. La parete della farm di villager. Ancora non l'hai completata. Eh. Sì. Io vi ho detto che l'avrei fatta. Ma il problema è. Non so che farci qua. Cioè. Che ci posso fare qua. Oh. Una fontana. O ci posso mettere dell'erba. Cioè. Dell'erba. Eh. Delle foglie. Non lo so. Quando faremo sta zona. Magari. La potremmo modificare. Comunque. Quest'albero è troppo grosso. Secondo me. Cioè. Ci fa un'ombra della madonna. Secondo me. Conviene sfruttarlo. Quest'albero. Tipo. Per farci qualcosa qui sotto. Non lo so. Qualcosa che cade dall'albero. Secondo me. Ci sta un botto. Devo mettere le torce. Io. Sto coso lo odio. L'ho fatto di mettere torce. Perché mi devo fare sempre pillar. Io faccio sempre così. Faccio sempre un pillar. Arrivo fino a sopra tutto. L'ultimo non lo faccio. E parto da qua. E spacco e metto. Praticamente faccio sempre così. Ogni volta. Quindi. Immaginate la pacchia. E la pazienza che ho. Ecco. Praticamente devo fare così. Per tutti gli spazi. Mi avete capito bene. Mi sono quasi eh. Madonna che stanchezza che ho. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sette. Altri e sette. Madonna. Comunque oggi. Magari. Muro ve lo dico. Mentre piazzo. Almeno passa il tempo. Che tra l'altro. Lo sto facendo anche così. Oggi sono andato a vedere anche. Il monitor nuovo per il pc. Ma tipo. Ho trovato una bestia enorme. Ho detto dove lo metto questo. Sulla mia scrivania. Che è un samsung. Per tipo 32 pollici. O 34. Non mi ricordo. Ma è un qualcosa di gigante. Curvo. Volevo comprare quello veramente. Poi ho pensato. Che. Se lo compro. Al momento. Non so dove metterlo. Infatti. Quello che comprerò. Sarà sempre curvo. Credo anche 2k. Credo un 2k. A 165 hertz. Prendo. Che. Per iniziare. Io direi che va più che bene. Calcolate. Che quello che ho io. Che non sto usando. Che avevo. Il computer vecchio. È 60 hertz. Quindi già. 165 hertz. Rispetto a quello. Sapete che è molto meglio. Credo di. Prendere quello infatti. 165 hertz. Poi. Quando. Magari. Non lo so. Vorrò comprare un altro monitor. Cosa che farò. Prenderò tipo. Un 240 hertz. Un 240 hertz. O magari anche. 360. Un muro solo. Alcuni di voi. Non capiscono. Ma io parlo. Per quelli che capiscono. E. Praticamente. Quello che comprerò. Mu. Lo userò. Come secondo monitor. Questa è l'idea. Ok. Il passaggio. Più. Fastidioso. Stancante. È stato fatto. Mu. Devo mettere solo i muretti. Allora. Direzione. Stonecutter. Mi serve un più bullo. Ma tanti. Addirittura forse così. Sto registrando da un bel po'. Eh. Fa ste mura. È faticoso. Ma devo ancora. Cioè. In sti episodio. Staparte la voglio finire. Quindi. Credo che un bel po' di cose. Ve le taglio. Ragazzi. Incredibilmente. Ho finito. E mi è avanzato. Un muretto preciso. Che fortuna. Per non dire altro. Ora. Non mi resta. Che sto scrivendo qua. Non mi resta. Che mettere le scale. Mettiamo 6 scale. Slab. E poi si scava tutto. E. Secondo me. Mi devo aggiustare un po' la pala eh. Dobbiamo fare un saltino. Nell'end. E da tanto. Che non uso la farm di enderman. Secondo me tocca dai. Come ce l'andiamo a fare un saltino là. Così riparo il tutto. Elytra. Accetta. Tutto. Pure qua. Ah no. Eh. Sul piccone con select touch. Mi devo ricordare. Di metterci il mending. Ma quando ce lo mettiamo. Perfetto. Ora. Eh. Non mi resta che riempì. Quindi. Poso il tutto. Ragazzi. Nel prossimo video. Farm di guardiani eh. Ve l'ho detto. Ora. Direzione end. A riparare tutto. Via. Vediamo se muova il wifi. È mezzanotte. Mezzanotte e cinque. Forse va. Chi lo sa. Prova per il tiktok. Eh. Muova il wifi. Ti pareva. Prima dovevo fare la live no. Ovviamente. Infatti ragazzi. Sono la sera in live su Twitch alle nove. Ma non tutte le sere. Perché può capitare magari. O come oggi. Che non va la wifi. Oppure può capitare che ho feste. Come per esempio. Domani sera devo uscire. E così via. Ma del resto. Sono in live alle nove. Voi seguitemi. E vi arriva la notifica. Ora. Andiamo a riparare tutto. Via. Muo inizio a spawnare un botto di gente qua. Voila. Ecco. Muo fa un rumore della madonna. Magari. Staparte voi ve la taglio. Perché è veramente fastidioso come rumore. Allora mi allontano un attimo. Accetta dire riparata. Ok. Piccone anche riparato. Manca solo la pala. Ah ma aspetta. La nederite. Ragazzi. Aumenta anche la durabilità. Perché. Qua c'ho. Unbring 3. E 1500. Qua era tipo 2000. Il piccone. E secondo me sì. La nederite aumenta. Anche tipo l'utilità. Cioè. Quanti utilizzi puoi fare. Quello intendevo. Se non l'avete capito. Perfetto ci siamo. Butto le enderperle che non mi servono. Aspetta questo ce l'ha con me. Chi è che ce l'ha con me? Tu. Pure tu. Non muori. Via. Via via via. Muo devo rimuovere tutta quella terra da lì. E. Fare piatto. E ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. Poi vedo anche magari quanto bombilla c'è nella farm. Perché secondo me un po' ci sarà. Meno male che c'ho sta pala. E' una passeggiata. Immagino se avevo anche il beacon. Madonna. Era un devasto qua. Era un devasto. Vabbè. Ma manco tanto mi devo abbassare alla fine. Cioè qua. Pensavo peggio. Molto easy. Sento uno zombie. E' poco da abbassare. Mi posso lasciare anche stun. Tanto la stun può comunque diventare muschio. Sto me lo prendo. Grazie. Può sempre servire. Devo svuotare il inventario ma. C'ho tutto pieno. Appena finisco qui. Potevo usare l'attenetti ora che ci penso. Mi sarebbe stato molto più comodo. Vabbè ragazzi ci vediamo appena ho distrutto tutto sto bordello. Ok ragazzi. Ci siamo. Ultimi due pezzettini. Perfetto. Ora. Dormo. Vado a svuotare tutta sta roba. Alle ceste sotto. C'è cobblestone e terra. Anche se non lo so eh. Perché ora che ci penso la terra mi serve. Eh. Devo coprire tutto là sotto. Pure qua. Vabbè. Non scarichiamo. Scherzavo. Mi serve quindi. Ce la teniamo. Mettiamoci anche delle torce a portare di mano. Perché tipo in questi buchi. Ce le mettiamo un po' di torce. Che non si sa mai. Qualche creeper. Spuni. Si copre semplicemente. Pure qua. Lo fa anche tutto il contorno qua. Cominci tutto a sto contorno. E si chiude pure qua. E' sta altezza. Sì. Ok. E vabbè. Sta zona si deve rifà. C'è sta. Sta mura qua. La forma è quella. Dobbiamo solo cambiare l'aspetto. Sa che è così eh. Eh sì. Ci siamo. Riempio di torce. Non voglio problemi. Questo è spray con un sacco di torce. Tanto si rifanno eh. E un attimo a fare le torce. Non è comunque che verso che fa sto cavallo eh. Perfetto. Voilà che robetta qua. Voilà che robetta. E qua. Qua devo rifà. Aspetta. E un attimo. Ecco fatto. E ho dato la forma qua. Qua siamo scesi. Perfetto. E che c'è rimasto da fare? Dobbiamo chiudere qua. Vabbè pure questo è un attimo. Dobbiamo solo terraformare qua sopra. C'è qua. Tutto sto coso. Faticaccia. Sarò una faticaccia. Ma va fatto. Quindi ci armiamo di pazienza. Qua probabilmente riempirò di torce. Come se non ci fossero domani. Ma lo. Secondo me conviene farlo dopo. Prima copro. Faccio astrisce da tri. Tanto la terra la ho. Ne ho un bel po'. Se non basta prendo l'altra. Non uso la cobblestone. Perché la cobblestone non si può trasformare in moss. E usare la stone sarebbe troppo costoso. Secondo me. Quindi conviene secondo me farlo di terra. Lascio solo un buchetto qua. Perché voglio accedere. E controllare il tutto prima. Prima di chiudere completamente. Deve essere tutto bello luminoso. A posto. E anche questo passaggio è fatto. Oh. Tra l'altro l'ho fatto pure in un video. Quindi è stato un po' più divertente di farlo off camera. Io direi che con la luce più o meno ci siamo. Io direi di sì. Qua non penso che possa sponare qualcosa. Qua posso fare così. Qua e qua. Io credo che ci siamo. Sì. Qua più buio posso fare così. Perfetto. E il vero problema è che qua è tutto buio. C'è un po' di torce. Ma però me lo posso fare. Facciamocela. Forse esagerato. Mettiamo un po' di luce. Facciamo anche un giretto al volo. Le mura dovrebbero essere tutte luminose. Qua abbiamo questa discesa. Che l'ho dovuta fare per forza. Perché se non sappiamo come collegare qua la scala. E anche questa. Quindi ci siamo. Vediamo un po'. Giretto al volo. Sì. Luminoso c'è. Devo dire che questo lato ha cambiato aspetto. Sì. Sembra che... Non lo so è più largo ora. Perfetto. Anche questo passaggio è fatto. Quindi ragazzi domani sera ce la vedremo con la farm di guardiano. Sì. Però secondo me prima di fare la farm è ora che ci penso. Devevo prima distruggere tutto quel tempio. E per distruggere tutto quel tempio senza un beacon. Secondo me ci vorrà un sacco di tempo. Quindi non lo so. Non lo so. Ci penserò. Vi farò sapere se domani andremo alla ricerca di teste di Wither. Così ci faremo il nostro primo beacon. Oppure distruggo a mano tutto il tempio. Devo vedere. Ma ragazzi per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto. Se è così bella lasciate un like di supporto e commentate. Mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi così non vi perdete i miei prossimi video. Noi ci vediamo domani alle 18.30 con il prossimo episodio della Vanilla. Da Fredericks è tutto. Ciao ragazzi e grazie della visione. Grazie. 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 Grazie.